eccoci qua eccoci qua buon sabato e di nuovo benvenuti alla nostra piccola rubrica di luce libra e cioè sabias che oggi sarà una puntata un po un po rapida più che altro perché è stata una settimana molto impegnativa e mi ha trovato un pochino impreparato sul tempo di registrazione ma ho deciso di approfittarne per proporre un argomento piccolino ma che sia di spunto magari per tutti per chi vuole magari conoscere un po un po meglio il mondo della luce libra e anche un un po un po datato nonostante poi ci ricollegheremo comunque anche ai giorni nostri ho deciso di andare un pochino sull'usato sicuro sfruttando un'idea che appunto avrei voluto pubblicare già da diverso tempo ma tra una cosa e l'altra ho mandato avanti altri progetti un pochino più un pochino più corposi stasera parliamo brevemente di una piccola selezione dei match del mio luce ador preferito di sempre cioè per chi non lo sapesse è il nostro buon vecchio ormai ricchissimo blue panther quindi stasera è sabbia che puntata 91 il meglio di blue panther oppure il meglio del meglio ho cercato di fare una piccola una piccola classifica o meglio neanche classifica una piccola selezione ecco la parola corretta di vari incontri che appunto ha svolto in carriera che sono reperibili tranquillamente su youtube perché da youtube che appunto sono andato a recuperare non farò un grande commento sui sui vari incontri bensì li proporrò ho deciso un pochino di suddividerli non tanto in senso logico appunto di bellezza magari dal più brutto al più bello viceversa bensì sono andato semplicemente un po in ordine cronologico è un po ripercorrendo le varie tappe della della carriera del nostro del nostro maestro lagunero quindi partiremo da incontri che si sono svolti all'inizio nella nella prima parte della carriera è nudo u w a quindi un po la prima la prima primo luogo importante dove si è esibito poi passeremo alla triple a poi al simele l insomma un po un po di cose ecco allora 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 tra i vari incontri che ho visto mi sentirei di suggerirvi come primo incontro assoluto un incontro che appunto si è svolto in w a è un incontro che si trova tranquillamente appunto come dicevamo prima su youtube è un incontro a più persone vediamo da una parte appunto super astro e solar che formavano una parte all'epoca dei cadetes dell'espacio dell'espacio non dell'os mancava appunto ultraman contro blue panther e sergio l'hermoso che è stato uno se vi ricordate se avete recuperato le vecchie puntate sergio l'hermoso è stato uno dei primi lucidore exotico che hanno fatto successo appunto a cavallo degli anni 70 e 80 è un incontro molto particolare più che altro perché facendo un breve assunto vediamo incontrarsi da una parte super astro e solar che sono tra i miei luce d'or preferiti di sempre chiaramente un gradino sotto il vecchio blue panther ma sono tra tra i miei luce d'or preferiti in assoluto c'è un bellissimo scambio appunto da parte di blue panther contro super astro e una bellissima parte di javeo i contra javeo contro solar che hanno appunto avuto anche sì lo stesso maestro quindi è molto bello vederli lottare uno contro uno e lo vedremo anche più avanti in questa classifica in questa selezione dall'altra parte vediamo appunto un giovane blue panther molto lontano da quello che abbiamo visto recentemente anche in buoni match quindi una un personaggio veramente a tutto tondo super tecnico capace di fare mosse anche di forza ma soprattutto anche di di agilità non indifferente nonostante sia un pochino più dello stile al tappeto come come luce d'or e dall'altra parte appunto anche se anche l'hermoso che sfigura un pochino vagamente in questo incontro nonostante lui sia un lottatore molto valido molto bravo e di per sé mi ha lasciato un bellissimo una bellissima sensazione di di lucia libera e d'altre tempi e lo consiglio tantissimo è un incontro che che mi è piaciuto molto prima della treplea però e soprattutto dopo la uwa bisogna ricordare il breve stint che appunto fece blue panther proprio in casa e mll prima del dell'appunto la rinomina in si mll sicuramente metterei dentro ce ne sono due di incontri uno più per il nome perché di per sé un buon match ma non è non è fantastico sulla carta però sono molto bene che ultimo dragon contro blue panther in una luce mano a mano del del 92 è un buon incontro non è non non si crede il miracolo mentre molto 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 buono quello è da vedere assolutamente è atlantis che allora era campione dell'nwa world middleweight contro blue panther e in una luce mano a mano ricordiamo il messico non sono tantissime le luci mano a mano rispetto quindi l'uno contro uno rispetto alle varie che ne so due contro due tre contro tre quattro contro quattro e quando ci sono solitamente sono bombette quindi questo recuperatevelo perché è un fantastico incontro da vedere chiaramente con gli occhi del 1991 quindi la luce nel frattempo è cambiata ma secondo me è veramente spettacolare per quanto riguarda invece gli anni della trepple a quindi praticamente un anno dopo fine del 92 inizio del 93 si ricorda sicuramente per quanto riguarda il suo stint la rivalità contro art bar che è stato per chi se lo ricorda per chi è un po più tagliato uno dei los gringos locos o meglio uno dei due fondatori insieme a eddie guerrero de los gringos locos all'epoca art bar all'epoca di questa rivalità si presentava come love machine ed era un luciador emmascherato e proprio blue panther andrà a smascherare art bar in una luce mano a mano chiaramente da questa maschera contro maschera dell'aprile del 92 e questo è da vedere in realtà tutta la la rivalità è molto molto carina e andrà avanti per un po di tempo ma recuperate questo mano a mano perché all'epoca art bar era poco conosciuto anche in messico ma era sicuramente un lottatore di alto livello ed è un gran bel match quindi recuperatelo perché questo è molto 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 carino di altro in realtà ce ne sarebbero parecchi in AAA ma sono più che altro dei buoni incontri dove però lui ha fatto da comprimario comunque c'era troppa gente e magari diventano un pochino più dispersivi nonostante possa andare sicuramente ad individuare anche un blue panther contro super astro che me lo stavo dimenticando sempre match titolato AAA questo per un mano a mano per il mexican national middleweight championship del 92 sempre e questo è una piccola chicca ma veramente piccola chicca andatevelo a vedere super astro in super forma o meglio super astro non è mai stato in forma ha una forma fisica che ricorda più un panettoncino ma con l'agilità di 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 un lottatore di 45 kg è incredibile soprattutto si vede molto bene quella curiosità cioè che super astro questa mossa tipica no il pendulo delle corde da cui appunto re misterio anni più tardi andò a costruire la sua 619 ora che mi viene in mente caspita di blue panther in triple a c'è stato anche un piccolo incontro che sulle prime quando ho visto ho detto wow ma che bello non conosco l'avversario dei blue panther poi sono andato a fare ricerche e invece lo conoscevo praticamente era blue panther contro il mariachi che non era nient'altro che una gimmick temporanea perché poi non è durata molto proprio di solar che aveva problemi evidentemente in quel periodo non so perché dovrebbe andarmi a recuperare la storia a esibirsi con la sua maschera storica adesso da solar primero e appunto si esibì come mariachi e questo è veramente un'altra piccola perla soprattutto per chi ama la luce a rastellona quindi la luce al tappeto con tutte le varie sottomissioni e javeo contro javeo questo per me è una piccola gemma del cuore in realtà ce ne sarebbero ancora altri ma per la triple a direi che salto perché ne ho presentate abbastanza e passerei senza ulteriori indugi al ritorno al cml verso la fine degli anni 90 inizio anni 2000 sicuramente sicuramente si può tirare in ballo vediamo che cosa porta il mio il mio file perché in realtà volevo proporne 5 ma adesso vedo passare sotto gli occhi dico è questo però possiamo parlarne sicuramente 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 direi che beh assolutamente quello che mi ero preparato originariamente c'è blue panther contro vigliano quinto che appunto è una luce a mano a mano per per la maschera al 75esimo anniversario del cml chiaramente vabbè non faccio spoiler di un evento così vecchio è dove blue panther andrà effettivamente a perdere la maschera vediamo rispetto agli incontri precedenti che appunto ho elencato un vigliano che inizia a sentire un pochino il peso dell'età nonostante sia ancora molto in grado di lottare e porteranno un incontro sicuramente molto americano come come gusto con sangue con colpi un po al limite del del proibito lanci sulle sedie in realtà è un incontro dal livello tecnico non altissimo come quelli magari precedenti ma molto sentito raccontato in maniera assolutamente magistrale ed è uno dei primi che già consigliai un po di tempo fa al loco del flematico e continuerò a consigliarlo ora e sempre perché è un è un pezzo di storia della luce a libre sicuramente ci sarebbe anche un blue panther contro black tiger che non è male ma perde a mani basse contro 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 quello che ho che ho presentato per quanto riguarda gli anni un po più recenti del cml qui inizia essere un pochino più difficile scegliere un incontro che sia veramente importante un po per quanto mi riguarda un po per l'affetto che provo per entrambi proporrei un semadonis contro blue panther per capelli contro capelli del 2017 e sicuramente sicuramente questo se non l'avete ancora fatto e siete fan non soltanto magari della luce a libre ma anche dell'aew e di brian danielson in senso lato e di tutta la sua carriera andatevi a recuperare l'ultimo incontro mano a mano che hanno fatto all'interno del cml qualcosa come pochi mesi fa perché quello è quello è veramente meraviglioso ne ho già parlato in puntata quando abbiamo recensito è un incontro che è bello 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 per tutta la caratura per tutto quello che che ha raccontato sul ring ma soprattutto è bello se avete visto tutto ciò che vi ho detto più che altro perché è un incontro che a volte è citazionistico è un incontro che appunto va a pescare a piene mani da quelli che sono stati grandi incontri di lucia libera non soltanto di blue panther a cavallo tra gli anni 80 e 90 e quindi sicuramente un incontro che già può piacere se lo si vede così senza aver approfondito prima ma lo si gusta ancora di più se appunto si va un po' a curiosare vedere del bel wrestling e poi appunto andare a rivedere questo incontro con la consapevolezza di vedere due grandissimi campioni due grandissime figure coinvolte che hanno preso rimescolato e riproposto in salsa moderna quello che è stata la grande carriera di blue panther e ogni volta davanti a questo racconto non posso fare altro che inchinarmi quindi io vi ringrazio per l'attenzione è venuto fuori comunque un discreto quarto d'ora di di racconti perché con blue panther si si fa presto mi scuso per non aver presentato magari una di quelle storie che mi piace raccontare e quant'altro è stata appunto una settimana un po pregna di eventi e è stato difficile registrare io ne approfitto per salutarvi per dare a tutti un abbraccione per dire andate a recuperare blue panther ora e sempre nei secoli dei secoli amen ciao